I Mastri di tutta la regione si sono sfidati a colpi di cazzuola, la conquista dell'Edil Trophy 2023. L'evento organizzato da 4Medil in collaborazione con il SAI di Bologna si è tenuto presso la sede del CFS e da riparare dietro ogni cazzuola. La storia è un lavoratore instancabile, un'ambita da gregari, un mestiere quello del muratore, poche volte alla ribalta, nei cantieri di ogni giorno. Mastro Fiorentino è stato il primo a consegnare la colonna? Sì. Sfidi Gonzales? Sì, è perché noi ci divertiamo col mattone proprio, è proprio una cosa che abbiamo dentro. Lavoro duro, però voi lo affrontate anche con lo spirito giusto, lo spirito sportivo. Certo, quella è la cosa che ti deve proprio... In quanti minuti l'avete alzata? L'abbiamo fatto in due ore, sì, due ore. Il tempo massimo era quattro ore che le dovevamo consegnare. Noi sappiamo la tecnica e ce l'abbiamo, diciamo, nel sangue, questa cosa. Lei è il pelè della cardarenda, possiamo dire. Come ti chiami? Sellitto Angelo. Che soddisfazione c'è poi realizzare questo fatto insieme a papà? Una grande soddisfazione, comunque c'è un certo studio dietro che si deve affrontare per questo genere di costruzioni. Non è una cosa che viene così. Poi lei dimostra che non è vero, che i giovani non vogliono... Certo, i giovani... Quanti anni ha lei? Io ne ho 22. Sono molto giovane. Già in Masto? No, diciamo manuale, aiuto mio padre. Sto imparando quest'arte piano piano. Ma non è che supera il maestro? Eh sì, delle volte anche questo può capitare. Valentino a chi vorrebbe dedicare quest'opera? La verità la vorrei dedicare alle morti sul lavoro. A tutti quei colleghi che non ci sono più. Bravo, sì. Perché ce ne sono tanti e se a me era possibile di mettere una croce da qualche posto. Masto Gigino, come va? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. È una bella manifestazione. Siamo contenti di essere stati invitati a preparare la Malta per questi operatori bravissimi, veramente. È una grande soddisfazione, è una bella esperienza. Ma lei è un campione? No, che campione in materia. Siamo quasi agli scoccioli della nostra carriera. Speriamo che il signore mi fa vedere la pensione, almeno. Qualcuno mi ha detto che lei è il Maradona della Cardarella. Il Maradona della Cardarella, no. Ci arrangiamo un po'. È il nostro mestiere, diciamo. Ringraziamo che c'è il lavoro. È dal Maradona della Cardarella al Lupo della Cariola. Salve, Amadrudo Michele. Masto Michele, come va? Tutto bene? Tutto bene, siamo qua con il grande Mastro Luigi. Mi raccomando, eh. Grazie. Forza Lupi. Forza Lupi.